Noi abbiamo concordato che in questo momento i lavoratori si ritroveranno in assemblea e ci sarà la proposta di rientrare al lavoro sulla base dell'impegno che l'azienda ha assunto di mettere subito in pagamento gli stipendi di ottobre, di verificare la possibilità col sindacato di anticipare anche lo stipendio di novembre a fine mese rispetto alle scadenze ordinarie e con l'impegno a utilizzare come ammortizzatori sociali sia i contatti di solidarietà sia la mobilità volontaria. Ovviamente questo verificando la possibilità giuridica. Laddove non ci fosse la possibilità giuridica che verificheremo con il Ministero si utilizzerà la cassa straordinaria e la mobilità. La regione toscana continua a essere a disposizione del tavolo per tutte le verifiche necessarie ma eventualmente accompagnerà anche i lavoratori attraverso gli strumenti di cui disponiamo il microcredito nei confronti dei lavoratori con l'anticipo degli ammortizzatori laddove i lavoratori lo chiedessero. Grazie 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 Grazie